Nuno Tavares Allontanarsi dalla linea gialla se è in partenza la Nuno Tavares Tavares, Tavares, Tavares Driccia e fascetta fomenta quando parte col cazzo rallenta La domanda è mo chi lo ferma sulla fascia fa 130 90 kg in km orari, curva che batte le mani, Olimpia che spiega le ali Allontanarsi dalla linea gialla se è in partenza la Nuno Tavares Express più uno al fanta Tavares, Tavares, Tavares E dalla curva parte un coro Lazioale e tutti insieme dopo gliene va a modre Lazia gli da... Lazio! Piazza della... Piazza della... Libertà! Il treno Tavares Express è in arrivo sul binario uno Nuno Tavares, 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 Tavares Tavares, Tavares Tavares, Tavares Tavares Tavares